sì sì li avete riconosciuti salmo e noiz dall'album cult esattamente la canzone che dà anche il titolo al disco cult con kid yugi che è un rapper pugliese di 23 anni no sono qui da la vita del rapper di massafra questo è il si chiama francesco se vi interessa saperlo francesco stasi è del 2001 appunto il padre faceva il commerciante no fa il commerciante al mercato e la madre infermiera così tanto per dare delle informazioni ha fatto il liceo ha cambiato vari licei ma partito dall'istituto tecnico poi è andato al liceo classico alla fine lo scientifico voleva fare lettere ha iniziato a lettere all'università poi ha mollato e poi niente ha deciso di fare il rapper nella vita e devo dire che in questo sito c'è anche quanto porta di scarpe il giro del cello no però c'è proprio la sua vita in effetti quello che sicuramente è interessante è che kid yugi è esattamente la però per fare una cosa con salmo e noiz non deve essere proprio l'ultimo degli imbecilli proprio l'incrocio perfetto tra no assolutamente proprio possiamo chiamarli eredi della della storia adesso con calma no 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 misuro le parole e il risultato è risultato è uscito proprio questo infatti visti anche il concerto salmo noiz e anche kid yugi che è salito sul palco del concerto dove erano presenti cito noiz 30 mila persone intelligenti il concerto romano di del di el razor tour il tour appunto del joint album di salmo e noiz è stato veramente veramente un'esperienza possiamo anche poi tornare a parlare di dell'importanza di uno spazio come quello ma dopo il quello che è da raccontare sicuramente un la seconda tappa perché è stato partito tutto una settimana fa tra l'altro in contemporanea con la prima partita della nazionale e noiz giustamente ha detto e chi se ne frega dell'italia venite a vedere noi perché siamo meglio non credo che sia fan del calcio come questa vaga sensazione anche esplicitato più se volete vi dico qual è la scaletta del concerto di roma che sarà diversa rispetto a quella di milano molto lunga salmo non voleva scendere dal palco infatti è sceso e risalito mentre a un certo punto il narco si assoluta con un bel diciamo un bel misto delle cose di noise delle cose che hanno fatto insieme delle cose di salmo alla antem eraser cringe ghigliottina incubi mic check respira che è quella insieme giusto ne citate anche un altro paio green house m3 m3 perdonami e nightclawers brucheria cult quello che abbiamo detto con sui yuki rap money it line attica e salmo insieme 1984 my love song 1 e my love song 2 zoe de roma la prima volta e like me to hell russell crow non mi passa con gemi tights pochette con gemi tights killer game sempre con gemi tights verano zombie via con me l'alba l'odio 90 minuti non dormire la fine e conclusione rob zombie che diciamo il primo singolo che li ha visti insieme insieme con un video che se non l'avete visto andatelo a recuperare perché secondo me è un cult anche quello è un video incredibile culto culto dalle inflessioni della voce ma anche dai saltini che fra la voce di flavio ha fatto nel io poche cose mi ricordo della mia vita diciamo in mezzo ai rapper qualcosa me la ricordo e mi ricordo che noise è sempre stato uno diciamo non particolarmente socievole ma con grande talento non si può dire non si può dire niente io l'ho visti dal vivo questa questa settimana questo fine settimana il concetto è stato lunghissimo molto divertente ma anche molto emozionante a un certo punto c'è stato anche il momento zio noise e devo dire che anche tornando uscendo e quindi anche condividendo molto spazio anche molte chiacchiere con con tutta la platea tutti i partecipanti al concerto c'era anche un certo stupore nel registrare ma anche nell'assimilare le parole che noise ha detto dal palco parole di fratellanza l'altra volta noi l'abbiamo chiamato il papa del rap romano effettivamente ha dato sarà stata lui diceva sarà stata che sarà stata la nascita della bimba e quindi sono cresciuto sei cambiato no sono sempre lo stesso c'è stato il batti becco tra salmo e noise fatto sta che proprio introducendo l'odio brano che sentiremo tra poco noi ha detto raga dovete più o meno così dovete lasciare stare l'odio e l'invidia canalizzate le energie da un'altra parte quelle vi portano a fare cose che non vi piaceranno la tenerezza la versione del voglio la pace nel mondo diciamo delle di miss italia però per per noi narcos allora io non inizio a non avere più di tanto pregiudizio non avevo prima ma appunto più vedo i concetti di questo genere che sono anche un po lontani rispetto a quello che io andrei a vedere di solito però innanzitutto impatto impianto scenico scenografico produzione magistrale bellissima ma molto spesso e mi è capito di dirlo anche l'anno scorso al concerto solo di salmo quando queste persone salgono sul palco sono investite da un amore gigantesco ma veramente che gli spiazza e quindi tutte le sovrastrutture le gangsta le street credibility la la faccia da cattivi sparisce o meglio viene usata durante i pezzi quindi la cattiveria viene appunto messa nel microfono ma quando la base cioè finisce comunque quando tra un pezzo e l'altro c'è il divertimento e la gratitudine sarà che ho visto recentemente inside out quindi mi sono immaginato cosa succedeva nella plancia di comando di noise narcos e di salmo però sicuramente qui a me fa fa strano quando un signore come salmo fa i cuoricini dal palco salmo credo che abbia l'età mia quindi siamo sui 40 più o meno sarà una signora quindi quindi siamo ormai diventati grandini e credo che insomma anche quello contribuisca sicuramente per noise contribuisce anche a un ammorbidimento della propria del proprio carattere rispetto diciamo a tutta quella quella cattiveria che fa parte anche di una di una storia diversa no cioè nel senso quando nasceva quando noise ha cominciato a fare il rap perché tra l'altro credo che fosse comunque molto giovane aveva un portato diverso cioè adesso mettersi a fare il cattivo quando dietro c'hai un'azienda che produce una parte di azienda che fa praticamente solo merchandise di qualsiasi tipo e credo che guadagni un botto di soldi bravi loro per carità cioè ormai è come dire non dico che sia imborghesito però no no e non lo voglio dire però sicuramente non è che uno può fare finta di avere un certo tipo di vita quando non ce l'ha più forse è questo è anche un po' questo non c'è è una questione credo di coerenza sì 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 esatto non c'è proprio voglia di fare finta e quindi quando sei contento lo dimostri sei un artista nel senso che quello che tu racconti è la tua arte racconti una parabola racconti ovviamente che non sei più lo stesso di 30 anni fa di Attica cioè non sei lo stesso forse di sì o di quelle prima ancora insomma non sei proprio più identico sei cambiato assolutamente sì e tra l'altro faceva ancora più specie perché la scaletta raccoglieva e raccontava la storia di tutte e due mostrando però uno spettacolo unico nel senso omogeneo creato strutturato anche prodotto dal punto di vista fisico perché i due hanno storie diverse anche stili leggermente diversi due dj sul palco damianito e cine e no dj gengis il sul palco palco che era era poi abitato di elementi che poi venivano attivati anche da loro stessi per esempio appunto la centrale la stalla la casa stregata che viveva insieme al concerto succedevano cose dietro le spalle dei due artisti sul palco ma c'è stato spazio del spazio per esprimere l'arte del writing le tag e quindi c'era anche diciamo anche un discorso culturale con tutta una serie di elementi che fanno parte di quel tipo di cultura se per caso siete un po' incuriositi o incuriosite sappiate che i due sono in tour fino ad agosto più o meno sì fino a metà agosto se vi interessa per l'italia tanto così andateli a vedere se vi interessa anche pochissimo raggiungeteli perché lo spettacolo è veramente veramente ben fatto e tornando a rock in roma ci si ci si risolleva un pochino l'animo perché abbiamo sentito abbiamo letto il resoconti da concerti di altri gruppi di altri in altri luoghi sulla sito di radio elettrica anche trasferte piuttosto impegnative ma che non valevano il prezzo del biglietto qui appunto non posso fare esattamente i paragoni perché non ero presente né nell'uno ma soltanto in questo evento di rock in roma tornerò sicuramente appunto come vi ho detto a vedere i concerti in quel di capannelle però fatto sta che la qualità dell'audio ma anche la la disposizione delle uscite di sicurezza un pochino la e certo e sicuramente vedere i concerti sicuramente un un'esperienza classista perché il il biglietto è comunque un un investimento però come giustamente mi dicevi tu fuori onda le essendo gratis la musica in qualche modo devi rientrare ma se poi giustamente tu impresa che facciamo una forma di investimento se tu sei una persona che ama la musica se un fan avendo un po tolto non dico tolto del tutto però ecco sicuramente diminuito molto l'acquisto della musica in sé su supporto e magari il fatto di vedere il concetto anzi magari sicuramente il concerto sostituisce quella spesa per andare ma ecco per andare invece nel parlare dell'impresa di organizzare una serie di concerti durante tutta l'estate in un posto che appunto concerti di un certo livello di un certo anche peso appunto oggi arriverà un gruppo giapponese che non è nell'unica data italiana quanto può costare quella quel gruppo x per dare invece tutto respiro a tutta un'azienda che porta appunto 20 concerti di grandi nomi in questa città dove appunto siamo già gli ultimi sulla cartina perché già andando a napoli sotto napoli è praticamente impossibile vedere un concerto di un artista internazionale per motivi bo x è normale che una un'azienda come rock in roma debba necessariamente ribilanciare con eventi meno rock meno proprio di che stanno attenti più ai numeri quindi ben vengano i concerti di giuglie di gigi d'agostino guarda sì io non sono non sono affatto contrario a questo mondo anche perché penso voglio dire perché una persona questo ne abbiamo già parlato una persona giovane che segue un certo tipo di musica non dovrebbe avere l'occasione di vedere questa musica dal vivo non ho capito per quale motivo la parte dovrebbe essere dovrebbe essere cancellata perché perché un certo una certa parte del mondo più anziana ha deciso che quella musica che non vale la pena ascoltare ma che vuol dire non ha nessunissimo senso tra l'altro andrebbe male anche il discorso contrario per la qualità io sto parlando proprio della rappresentazione cioè perché io non posso essere rappresentata nei miei gusti perché qualcuno ha deciso che i miei gusti non valgono abbastanza ma anche il contrario per quale motivo non deve venire david gilmore a fare 17 date tutti seduti ci sono entrambe le cose ci sono entrambe cioè se c'è mercato per entrambe le cose c'è mercato per entrambe le cose appunto deve esserci lo spazio per tutti il problema è questo mi dirà il problema è lo spazio cioè perché c'è uno spazio solo per fare queste cose lo sappiamo bene insomma quanto viene sostenuta la cultura poco molto e che tipo di cultura quindi soprattutto il seggari lei è arrivato prima di colomba lasciamo stare parlando di cultura chiudiamo la parentesi parlando di cultura chiudiamo la parentesi Grazie a tutti.